Ragazzi sono le 4 e ho circa un'ora di tempo per andare a provare la macchinina bene ragazzi come dicevo sono venuto qui in questo parcheggio a provare la macchina radiocomandata modificata eccola qua la macchinina modificata ho stampato un supporto in PLA e ho messo un'antenna naturalmente è collegata alla VTX davanti una action cam la ultima che abbiamo provato e ho portato qui nel canale e le sospensioni sono un po' scariche sembra che non reagiscano troppo bene e qui davanti poi ho messo la cameretta per la vista in FPV ragazzi dobbiamo vedere a che distanza arriva qua davanti a me questa strada è lunga circa 200 metri vediamo fino a che punto riusciamo a spingerci con la vista in FPV proverò anche a registrare il video con l'action cam che è una full hd 4k 60 fps ci saranno delle vibrazioni però vediamo che cosa ne esce fuori occhiale per fpv batteria carica ragazzi non so se vi capita anche a voi però io prendo gli occhiali li metto su e trovo la batteria che dopo poco si scarica questi hanno due batterie di quelle tonde però non durano un granché non so se è questo occhiale nello specifico oppure se sono un po tutti così bene dopo ragazzi vi spiego come ho fatto a mettere la vtx qua dentro e a fare i vari collegamenti elettrici adesso la proviamo Oh ho Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cos'ha che non va? No! No! Molto male! Il canino per poco mi voleva sbranare. Ragazzi si è tranciato di netto il cavo, guardate qua. Brutta, brutta brutta questa cosa. Non so se è finito sotto una ruota ma va rivisto tutto il sistema perché questi cavi esterni non mi piacciono. Devo modificare il sistema di alimentazione di questa macchinina. Questa prova è andata male. Era partita bene ma poi è andata veramente male. Allora, si è scollegato un filo che appunto alimenta tutto il sistema. Questo qui serviva per dare corrente a tutto il sistema. Dalla batteria la corrente andava sia al circuito della macchina che anche alla trasmittente video che ho messo qui con una fascetta. Questa è la trasmittente video che poi tramite il suo cavo va all'antenna. Allora, devo fissare meglio sicuramente la cam da FPV perché vibra un po'. Avevo fatto questo supporto in PLA qua sopra. Vedete che andava a bloccare insieme a queste fascette la cam da FPV insieme alla GoPro. Però vibra e quindi va fissato meglio. Inoltre, avevo fatto questo cavetto, questa prolunga, per poterla alimentare senza dover tutte le volte andare a togliere la carrozzeria. Mi sembrava una genialata e invece questo è il risultato. Non ha funzionato. Quindi bisogna che metta un interruttore esterno e che colleghi in maniera un po' più appropriata il sistema di alimentazione. Questa era la macchinina WL959. È una figata assurda. 38 euro. Veramente una genialata di macchinina radiocomandata. Da questa prova andata male, ragazzi, io vi saluto e come al solito vi ringrazio dell'attenzione. Anzi, ditemi se l'argomento vi piace, se volete che porti altri contenuti tipo questo qui nel canale. Ci vediamo con nuovi video. Alla prossima. Ragazzi, iscrivetevi al canale cliccando su questo con la tonda qua. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao!